Il sostegno al reddito abbiamo visto anche nella tabella, vengono aiutati anche, hanno fatto domanda anche persone che lavorano ma che hanno un reddito pur lavorando troppo basso per essere in grado di sostenersi a sé e alla propria famiglia. Quindi veramente un primo tentativo di andare ad aiutare queste nuove fasce di povertà e emergenze. Quello che mi preme però ancora una volta mettere in evidenza è di non, come dire, artatamente costruire guerre fra poveri. Il sistema di sostegno ai richiedenti asilo, ai migranti è previsto da normative europee internazionali che stanno al di sopra delle possibilità di scelta dei comuni ma sono fondi che vengono destinati dall'Europa per gestire le migrazioni e il fenomeno dei richiedenti asilo che è un fenomeno purtroppo che sta aumentando in questi anni ma che ha dei canali di finanziamento. Quindi li dice, anche se va al governo della Lega non cambiano? No. Per sintetizzare politicamente anche l'intervento. E non bisogna, come dire, artatamente costruire guerre tra poveri.